Musica Accoglienza, pace, istruzione per tutti. Messaggi universali lanciati oltre 50 anni fa, ma ancora attuali. Sei artisti e fotografi interpretano l'eredità di sei figure che hanno lasciato il segno. Ernesto Balducci, Don Faccibeni, Don Milani, Don Mazzi, ma anche Mario Gozzini e Franco Basaglia. Il cammino della mostra itinerante Ripensare l'umanità e noi, immagini dalla Germinazione Fiorentina, parte dall'oratorio di Santa Caterina a Bagnorripoli, nelle campagne a sud di Firenze, dove rimarrà fino al 30 settembre per le visite delle scuole. La Germinazione Fiorentina è stato quel periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 a Firenze, nella quale una serie di personaggi provenienti dal mondo cattolico e non, hanno fatto una serie di esperienze per approfondire il loro ruolo all'interno della società e lanciare un nuovo messaggio, una rilettura di vecchi valori e tradizioni e portare veramente una parola nuova con nuove esperienze. Questa idea di fare una mostra proprio su alcuni aspetti di questa Germinazione Fiorentina è stata proprio uno stimolo, uno stimolo per noi, ma ovviamente poi anche per i giovani artisti e per gli artisti che hanno partecipato e che hanno interpretato alcuni aspetti di questi personaggi. L'idea è nata in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Don Milani. Poi la mostra ha abbracciato altre figure che in quel tempo iniziarono una vera e propria rivoluzione culturale e si è allargata ad altri tre territori. In parallelo è stato scritto un libro, mentre sono previsti incontri nelle scuole. Ma la cosa bella e molto importante è che l'adesione a questo progetto è dato dalle altre tre sezioni soci che per la nostra cooperativa è un obiettivo molto importante e che si cerca di perseguire sempre di più. La sinergia tra persone specialmente legate ai consigli delle sezioni soci è basilare per portare avanti quelli che sono i nostri progetti di solidarietà ma anche di cultura nei confronti dei nostri territori. La prossima tappa, a fine novembre, toccherà Barberino di Mugello. Poi la mostra arriverà a Borgo San Lorenzo e a Pontassieve. Che messaggio rimane oggi di quell'epoca? Rimangono molti messaggi che al momento sembrano inascoltati. Principalmente possiamo pensare a quello sulla pace. Pace che in questi giorni diventa sempre più pressante. Pace che fu lanciata da Giorgio Lapira e riportata poi da tutte le principali personalità del periodo.